Mi chiamo John Bassett Trampa, per tutta una vita ho fatto l'ordinario di glottologia, linguistica storica, linguistica generale e dialettologia. Si è parlato molto oggi di insegnare il dialetto e di salvare il dialetto. Allora, il dialetto non è lingua, lingua è un concetto socio-istituzionale, dialetto è dell'oralità della vita che noi viviamo. Non si imparano dai libri i dialetti, si imparano dalla vita. Non si insegnano perché le lingue e i dialetti oggi ci sono, domani non ci sono. Cioè, come le piante intorno a noi nascono, vivono e poi muoiono. Quante lingue al giorno d'oggi muoiono ogni giorno? Non si salva con istituzioni, non si insegnano con istituzioni, perché le istituzioni si veicolano con le lingue ufficiali.